Siamo qui con Matteo Ronchi, un atleta noto a tutti ormai per le sue capacità balistiche e lo intervistiamo oggi, il giorno prima del suo grande evento di domani ma ci spiegherà tutto lui, grazie Matteo Io sono anni che ho il sogno di volare, finalmente ho trovato un posto perfetto per esaurire e usavo dire il mio desiderio, farò un salto incredibile con lo snowboard E volerà E volerò E volerò E volerò E volerò E volerò E volerò E volerò